amiche amici di rossini tv oggi siamo al parco oasi verde la diligenza di borgo pace siamo stati chiamati da conf commercio marche nord al direttore americo varotti per la presentazione estiva del progetto che risponde al nome di itinerario della bellezza un grande traguardo raggiunto di cui il presidente varotti ci parlerà tante iniziative in cantiere per il prosieguo di questa iniziativa insomma naturalmente è un momento importante che testimonieremo con le nostre telecamere col direttore di con commercio marche nord americo varotti direttore continuiamo a scoprire le bellezze perché già ci ha portato e ci ha fatto arrivare fino a borgo pace e lo facciamo per presentare l'itinerario della bellezza in tutta la sua versione estiva e con qualche forse novità sì tanto borgo pace è una delle perle ambientali del nostro itinerario della bellezza è una località a confine con gli appennini anzi sugli appennini a confine con l'umbria veramente ricca dal punto di vista ambientale oltre che storico culturale è entrata quest'anno nel progetto itinerario della bellezza insieme ad altri tre comuni che hanno portato a 25 il numero delle amministrazioni comunali che hanno deciso nel 2024 di affidarsi a conf commercio per la promozione turistica oggi facciamo l'evento estivo per raccontare un po quello che abbiamo fatto in questi mesi del 2024 e anche per annunciare le prossime iniziative del 2024 ma anche qualcosina del 2025 anche perché il nostro lavoro del itinerario della bellezza è un lavoro in costa in progress come si dice quindi siamo costantemente impegnati a immaginare nuove soluzioni nuove ipotesi nuovi progetti per valorizzare i comuni che si sono fidati di noi insomma per creare questa rete di amministrazioni comunali che insieme si promuovono a livello nazionale internazionale l'avevamo già preannunciato nel corso di una precedente intervista 25 un po' una linea di demarcazione noi siamo esattamente a metà dal prossimo comune che si aggiunge saranno meno quelli che non ne fanno parte di quelli che ne fanno parte direi che c'è di che rimanere molto soddisfatti per un esperimento pionieristico nato accorpando un manipolo di comuni fiduciosi beh diciamo che già da oggi lo diremo poi lo confermeremo sono 27 i comuni perché nel frattempo anche il comune di monte cerignone comune di san costanzo hanno aderito al progetto ma altri per la verità sono in itinere sono in arrivo perché la bontà del progetto sta nel grande lavoro che stiamo facendo per promuovere i territori e il fatto stesso che i comuni continuano ad aumentare sta a significare che stiamo lavorando bene insomma i risultati poi lo dicevo qualche giorno fa in un'intervista ad un giornale locale i risultati poi li vediamo anche dalle presenze nei musei che gestiamo noi il museo di pergola dall'anno scorso a quest'anno abbiamo fatto un aumento di oltre il 35 per cento dei visitatori mondavio e cagli dove abbiamo la gestione dal primo luglio l'anno scorso oltre il 20 per cento di aumento perché una cosa che io dico sempre agli amministratori non basta gestire i musei bisogna promuoverli perché aprire e chiudere sono buoni tutti noi aggiungiamo a questa disponibilità dei nostri collaboratori anche la promozione dei siti a livello nazionale internazionale abbinata alla promozione generale dell'itinerario della bellezza comporta poi dei risultati così positivi 27 comuni sono ecco più della metà dei comuni della provincia questo ci riempie di soddisfazione tenendo conto anche che abbiamo in lista d'attesa dei comuni della provincia di ancona e questo potrebbe essere un altro piccolo punto da segnalare cioè a livello turistico e soprattutto a livello di promozione turistica quando la si va a fare abbastanza lontana di conseguenza diciamo quando si va a cercare una clientela che arriva da lontano forse i confini che noi abbiamo tracciato delle province i confini che noi abbiamo tracciato delle regioni perdono anche un po di significato noi cerchiamo di promuovere i vari prodotti turistici quindi l'offerta turistica complessiva del territorio dividere una vallata da una parte peso rubino dall'altra parte ancona è onestamente molto difficile quando poi le caratteristiche dei luoghi sono le stesse e il turista che viene nella nostra provincia viene nella regione marche non è che poi si ferma ai confini ci fermiamo qua perché siamo in provincia di peso rubino non andiamo oltre quindi però questo riconoscimento che ci viene anche da altri comuni anche da altre province sta bene a significare l'unicità del progetto itinerario della bellezza noi quest'anno avremo due appuntamenti importanti una settembre una novembre a pesaro a settembre faremo il forum impresa cultura italia il 6 di settembre e a novembre il meeting dei direttori nazionali di federalberghi in entrambi hanno deciso di mettere come prima informazione da dare a tutti i partecipanti l'itinerario della bellezza proprio come esempio più unico che raro di iniziativa di promozione e iniziativa di rete che è stata capace di mettere in sintonia di far lavorare insieme soprattutto i piccoli comuni di quelli che da soli non parliamo di peso lo fanno urbino ma i piccoli comuni che normalmente da soli non riuscirebbero ad uscire nemmeno dai confini comunali concludendo ovviamente quello che possiamo farci noi anche parte così promozionale è un commento è una conferma nei confronti dei sindaci e delle amministrazioni che hanno aderito ma c'è qualcosa che vogliamo dire anche a quelli che stanno magari riflettendoci su ma noi diciamo che i risultati e la positività del progetto la dimostrano il fatto che siamo partiti con cinque comuni e oggi siamo 27 in pochi anni e quindi le amministrazioni dovrebbero riflettere su questo se 27 loro colleghi hanno deciso le amministrazioni hanno deciso di affiancarci in questo progetto sta a significare che effettivamente le cose le facciamo e le facciamo bene d'altra parte anche le iniziative che faremo da qui alla fine dell'anno lo stanno a dimostrare noi saremo presenti alla fiera di Genova del VTE ai primi di settembre e saremo alla fiera di Stoccolma saremo alla fiera di Pestum e poi alla fiera di Rimini e poi saremo ancora insomma in giro per l'Italia e per il mondo per promuovere il nostro territorio presenteremo una nuova edizione della guida dell'itinerario della fede del silenzio della fede con l'eremo di Monbaroccio in prima linea quest'anno e poi non dimentichiamo che quest'anno c'è un'anniversario importante sono agosto 550 anni del riconoscimento a Federico da Montefelto di Duca di Urbino sono 550 anni appunto nell'agosto del 1474 che il Papa dà il ducato a Federico per questa occasione noi realizzeremo una nuova edizione dell'itinerario delle rocche di Francesco di Giorgio Martini che tanta fortuna ha avuto in passato con l'aggiunta ovviamente dei comuni che nel frattempo si sono aggregati a questo progetto e tra l'altro insieme ai 500 anni di Federico da Montefelto Duca d'Urbino ricordo anche che sono i 550 anni dell'infeudazione a Giovanni della Rovere del vicariato di Mondavio San Costanza e Mondolfo quindi altre tre località che sono proprio nell'itinerario della bellezza quindi un altro progetto anzi altri due progetti che realizzeremo nel corso dell'anno insieme alla partecipazione alle fiere e insieme agli eventi che abbiamo organizzato su Pesaro di rilievo nazionale il direttore Varotti ha fatto una bella introduzione su Borgo Pace adesso siamo col sindaco Romina Pierantoni sindaco qua cosa succede oggi avete radunato un sacco di gente che viene dal mare in una giornata come questa insomma è già un bel risultato ma sicuramente è un risultato ma il primo di tanti risultati che noi ci attendiamo con questa partecipazione agli itinerari della bellezza sicuramente questa giornata è importante io sicuramente ringrazio Amerigo Varotti che è un po' il deus macchina di questi itinerari della bellezza per dare l'opportunità a tutti di conoscere il nostro territorio a tutti dico anche a noi amministratori che facciamo parte di questa rete una cosa molto importante perché io trovo proprio che la forza del progetto di itinerari della bellezza sta prevalentemente su due aspetti uno è l'aspetto che per un piccolo comune come il nostro poter avere qualcuno che si occupa della comunicazione e della promozione del nostro comune in una rete è una cosa per noi da soli impossibile da fare in rete è possibile da fare il fatto di essere riusciti il secondo punto a mettere insieme quindi a vendere a proporre e a far vedere quanto è bello una porzione importante del territorio della provincia di peso urbino una porzione che tra l'altro va sempre più a crescere anche perché quando soprattutto gli stranieri cercano un luogo in italia dove fare turismo si sa che non è che guardano i nostri campanili ma guardano le nostre bellezze che fortunatamente una provincia come quella di peso urbino puoi raggiungere anche in giornata no con tempi molto stretti e quindi penso veramente che sia un grosso valore aggiunto e quindi questo valore aggiunto che per chi è a pesaro per chi è a fano per chi è a urbino perché a mondavio quant'altro guardando gli itinerari della bellezza magari capisce anche quante sono le bellezze che ci sono nell'alta valle del metauro e in questo momento a borgo pace e quindi ci raggiungono ci apprezzano e ci promuovono è proprio lì no un pochino il segreto di questo itinerario della bellezza da una parte non spazzare via l'idea del campanile perché comunque i comuni sono tutti identificati identificabili e ben descritti dall'altra però mettendoli in rete superarla esatto è proprio quello che io dico quando mi dicono i comuni dovrebbero aggregarsi no io non sono per l'aggregazione dei comuni sono per mettere i servizi in comune mantenendo la propria individualità no la propria comunalità e gli itinerari della bellezza fanno questo in maniera secondo me professionale molto bella no per un territorio come dicevo prima si presta molto a questo tipo di promozione con l'assessore francesco baldelli il tema delle infrastrutture siamo qua a parlare di turismo ma è il tema dei temi perché parliamo di accoglienza parliamo di promozione da una parte ma di accoglienza per accogliere bisogna riuscire a far arrivare questo è stato un po il tema dell'intervento e non si tratta solo di chiudere le buche si tratta di fare molto di più chiudere le buche sarebbe la cosa più semplice che va fatta e deve essere fatta noi dobbiamo rendere accessibile la nostra regione perché senza accessibilità non possiamo fare turismo e avere turismo in una regione tra l'altro bellissima che ancora tutta da scoprire e che tra l'altro nei flussi turistici che stiamo osservando dalla regione Marche vediamo sempre più attrattore per turisti che non pensavamo potesse solo scegliere le Marche rispetto ad altre regioni belle quanto le Marche e a volte io dico dovremmo essere anche più orgogliosi di essere marchigiani perché abbiamo una caratteristica unica quella che in 40 chilometri di ampiezza noi abbiamo bellissime spiagge con grandi città che arricchiscono la nostra offerta turistica culturale artistica e storica ma anche piccoli centri spostandoci verso l'entroterra che sono a volte degli scrigni ancora sconosciuti molto spesso anche turisti italiani e allora noi dobbiamo promuovere il turismo ma allo stesso tempo investire come stiamo facendo in infrastrutture e il miracolo la sfida è quella di riuscire a conciliare da una parte la viabilità sempre più agile sempre più se vogliamo fluida per non dire veloce con comunque la preservazione del territorio e di tutto quello che è l'ambiente si è una grande attenzione salvaguardare l'ambiente significa salvaguardare noi stessi ma non solo da un punto di vista salutistico ambientale da un punto di vista anche di interessi economici perché possiamo rimanere attrattivi se salvaguardiamo il nostro ambiente non lo distruggiamo quindi quando realizziamo opere pubbliche infrastrutture con investimenti molto cospicui che stiamo realizzando in questi 45 mesi di governo della giunta acquaroli 4 miliardi di euro nelle nostre infrastrutture il primo pensiero corre al rispetto dell'ambiente vi faccio un solo esempio quello della ferrovia stiamo parlando oggi finalmente tutti insieme di arretramento allora quell'arretramento dovrà avvenire il più possibile in galleria proprio perché quella infrastruttura si veda il meno possibile laddove quella infrastruttura emergerà dalle gallerie dovrà essere visibile ma compatibile con il nostro territorio ecco il nostro grande sforzo dotare di infrastrutture performanti la nostra regione per non rimanere fuori dai grandi flussi imprenditoriali e turistici ma anche grande rispetto per il nostro ambiente Paolo Costantini presidente provinciale federalberghi presidente qua si fa sistema qua bisogna cominciare a pensare a mettere appunto in rete anche le strutture recettive dobbiamo mettere in rete le strutture recettive non pensare più a singoli punti lungo la nostra provincia ma ad un sistema coordinato per poter fare promozione e tutti insieme avere un'offerta turistica di maggior livello in occasione dei grandissimi eventi ci si rende sempre conto un po di una difficoltà ad avere abbastanza posti letto a livello provinciale questo problema può essere in parte risolto o viene addirittura enfatizzato ma se iniziamo a ragionare pensare in ottica provinciale questo problema sicuramente viene attenuato oggi magari da pesaro fanno quando si fanno grandi eventi l'ospitalità si amplia anche alla romagna piuttosto che a parti più a sud della nostra regione quindi secondo me se si lavora in ottica rete e soprattutto si creano servizi logistici e infrastrutture questo diventa sicuramente un vantaggio un valore aggiunto importante come si diceva con la sindaca di borgo pace e superare la dimensione del campanile assolutamente sì anche questa è per arrivare a borgo pace ad esempio oggi ci si può venire in auto e poco altro a mio avviso se si investe sui mezzi pubblici sui trasporti e sulle infrastrutture vedremo che borgo pace è molto più vicino alla costa di quello che può essere oggi momento clou di questo pomeriggio nel quale è stata presentata ad opera di commercio marchia nord la guida e le guide dell'itinerario della bellezza invece la presentazione di un libro un libro firmato da marcello mammini illusione e mistero nella provincia di peso rubino qual è qual è marcello il mistero allora questo non lo posso rivelare chiaramente posso dire qual è l'origine di questo libro quando ho visto l'iniziativa di dell'amico varotti per mettere in evidenza le bellezze storiche artistiche e no gastronomiche della provincia ho detto cavolo devo fare anch'io la mia parte sono un inventore di storie quindi mi sono inventato una storia niente di che come si può vedere un romanzo breve si legge una sera e ho cercato di disseminare quella nella storia la descrizione di alcune particolarità alcuni piccoli anche misteri proprio della provincia in modo che chi leggeva fosse più interessato che alla lettura di una semplice sterile guida turistica spero di esserci riuscito il direttore varotti addirittura ipotizza la scrittura come strumento di promozione è un sogno o è un'ipotesi praticabile dunque il io volentieri farò cioè mi farò venire in mente un'idea per la seconda parte di questo libro per non scontentare tutti i sindaci che non sono stati nominati in questo libro speriamo bene perché alla mia età l'alzheimer comincia a colpire duramente quindi può darsi che l'idea non arrivi e questo fa parte del mistero a parte del mistero certo no e mi sono sempre divertito a scrivere fin da quando ero a scrivere e raccontare soprattutto quando ero bambino mi venivano in mente delle storie mi mettevo a raccontarle mi accorgevo che i miei amichetti cinque sei sette anni erano molto interessanti soprattutto le bambine e allora ho detto cavolo questo funziona devo continuare su questa strada ci ho provato col presidente angelo serra presidente borgo pace si aggiunge agli itinerario della bellezza una bella soddisfazione poi veramente il posto è bellissimo ma non è l'unico sono tante l'abbiamo sentito dal direttore varotti le aggiunte insomma questo itinerario della bellezza si conferma passo passo sempre più un successo si hai detto bene questo itinerario della bellezza conferma ogni giorno l'aver indovinato questo sistema di rete e soprattutto aver capito prima degli altri che i turisti di oggi non vogliono fare solo mare vogliono viaggiare vedere i borghi vogliono vivere una vacanza più completa e questo ha fatto sì il grande successo del itinerario della bellezza tutto questo detto non solo e non tanto in questo caso dal presidente di commercio marche nord ma anche da uno dei più importanti albergatori della riviera e questo è ancor più significativo sentir dire da uno dei più importanti albergatori della riviera che il turista non vuole più solo il mare credo che sia un passo in avanti enorme sì il turismo è cambiato la volta arrivavano mettevano la macchina 15 giorni non la toccavano oggi escono anche due volte al giorno noi lo vediamo che gestiamo anche i parcheggi che una volta uno arrivava metteva la macchina non usciva più oggi escono due volte al giorno pensa che i nostri parcheggi ci sono in una stagione 80 mila passaggi vuol dire che su tutte gite che fanno nell'entroterra visire i borghi la cucina le nostre bellezze e tutto il nostro territorio con commercio marche nord indubitabilmente maestri di bellezza per questa presentazione di oggi a borgo pace grazie a tutti